Sì, mi fai fare una foto? Sì, mi fai fare una foto! Stai guardando? Guarda! Sì, mi fai fare una foto! Perché non vuole venire? Attenzione, pietra! Non ti faccio venire! Tutta la maglia non c'ero più che poi mi sei! Aspetta! Finisci di mangiare! Non te lo ruba nessuno il pochino! Cammina Fabio, vai ancora! Finisci di mangiare! Ah, ci stanno venendo incontro! Vi spiego una cosa adesso, anche per farvi capire a volte come va la vita, no? Quelle due barche stanno camminando stanno vicino a 200 delfini e non li vedono e stanno andando perché loro sarebbero fermati! Se non guardi, se non cerchi non le trovi le cose! Guarda! Non so cosa è! No! 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 Se vi siete stanno a userare la pena.